Un esame irripetibile sull'arma del delitto, su un panno macchiato di sangue e sull'auto nella quale si sarebbe consumata l'aggressione. La procura di Arezzo ha affidato il lunedì alla dottoressa Isabella Spinetti dell'Università di Pisa gli accertamenti tecnici su tre oggetti attorno ai quali ruota il delitto di Cagliadello Marino, la 41enne biturgenza ritrovata senza vita e con la testa fracassata la mattina del 12 luglio scorso abbandonata sul greto del torrente Afra Sansepolcro. In carcere dallo scorso 16 settembre con la pesante accusa di omicidio volontario si trova Peter Polverini, 24enne di San Giustino Umbro. Il perito dovrà analizzare dunque i tre oggetti, il martello con il quale il giovane avrebbe massacrato Katia, uno straccio sporco di sangue, entrambi fatti ritrovare dallo stesso 24enne la mattina dell'arresto ed infine l'automobile del padre, una Nisa X-Trail Blue. Intanto il 24enne lo scorso sabato ha potuto ricevere la visita in carcere del padre e dei suoi legali che lo hanno informato sulla decisione della procura di Arezzo di eseguire gli accertamenti tecnici irripetibili. Ancora non ci sarebbero novità, invece riguardo alla strategia difensiva il San Giustinese per adesso rimane trincerato nel suo silenzio, ma nel corso dei prossimi incontri con i suoi avvocati potrebbe anche decidere di collaborare con la giustizia e raccontare così la sua verità su quella drammatica notte.